È un grande equippo, è molto difficile jugare contro il Barcellona, però credo che abbiamo fatto un buon partito oggi. Ma sì, a me lo conosciamo tutti, quindi è un jugador fenomenale che può fare qualcosa in qualche momento. A volte non si può parare, è l'equipo che può ganare la Champions, però non è solo il Barcellona, è un altro equippo.